Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare il ricevitore FRSKY X4R al flight controller Omnibus F4V2. Collegheremo sia il segnale tramite S-Bus sia la telemetria. Per quanto riguarda il flight controller dovremo collegare il nostro connettore XT60 ricordandoci di mettere il filo col polo positivo nella parte superiore, mentre quello col polo negativo nella parte inferiore. Come abbiamo visto nella recensione, questo flight controller dispone di tre porte UART denominate UART1, UART3 e UART6. La porta UART1 è posizionata in questa parte del flight controller, mentre le porte UART3 e UART6 sono condivise all'interno di questo connettore GST posto qua sopra. Ed è questo. Sappiamo anche che la porta UART1 è invertita, mentre le porte UART3 e UART6 hanno il segnale normale. I ricevitori FRSKY invece mandano il segnale S-Bus e quello della telemetria tramite canale invertito. Quindi siccome questo flight controller ha solo una porta UART invertita, mentre a noi ne servono due, dovremo procedere all'hack del ricevitore. Il telemetria HACK consiste nel saldare un filo in questo chip qua. Si tratta di un'operazione molto delicata e consigliata solo agli utenti più esperti. Per chi invece è alle prime armi sconsiglio vivamente di procedere a questa operazione, perché comunque dovete saldare un chip veramente piccolo. Col telemetria HACK avremo il segnale della telemetria non più invertito, ma tramite segnale normale. Quindi potremo collegarlo tranquillamente in questo connettore GST messo qua. Quindi colleghiamo il nostro cavo servo al ricevitore nel canale dell'S-Bus, ricordandoci di mettere il cavo segnale verso il basso, i 5V al centro e la terra in alto. E sono rispettivamente questi tre che vediamo nel diagramma. Adesso colleghiamo la telemetria. La telemetria va collegata in una porta UART in un canale TX. Può essere il TX6 o il TX3. Io ho scelto di metterla nel TX6. Quindi collego il connettore JST facendo in modo che il cavo che va al ricevitore sia nel secondo pin partendo verso l'alto. Come vedete ho messo questo connettore tutto verso l'alto tenendo il primo pin vuoto e il secondo pin, il TX6, che va direttamente all'hack del nostro ricevitore. Adesso abbiamo il ricevitore collegato al flight controller tramite il canale S-Bus nella porta UART1 e la telemetria nella porta UART6 nel TX. Ora che tutti i collegamenti sono fatti possiamo collegare il nostro flight controller a Betaflight. Adesso colleghiamo il cavo USB al flight controller. Clicchiamo su connetti. E la prima cosa che dovremo fare sarà andare su ports. Su ports dobbiamo attivare il serial RX nella porta UART1 e la telemetria nella porta UART6. Allora, visto che abbiamo collegato appunto il ricevitore seriale nella UART1, attiviamo adesso la UART1 e la telemetria nella porta UART6. Anche se il nostro ricevitore è un ricevitore FRSKY dovremmo scegliere Smart Port, visto che la telemetria dell'X4R viene trasmessa tramite appunto Smart Port. Clicchiamo e poi andiamo in Save e Reboot. Di nuovo su connetti e adesso dobbiamo andare in configurazione. In configurazione prima di tutto dobbiamo settare il ricevitore seriale. Andiamo su Reserver, clicchiamo su Serial Bused Reserver. Siccome il nostro ricevitore è un ricevitore SBUS, qui dovremmo cliccare su SBUS. Una volta settato SBUS, Save e Reboot. Riandiamo su connetti e torniamo in configurazione. Adesso configuriamo la telemetria. Scendiamo verso il basso fino ad arrivare su Other Features e assicuriamoci che il telemetri sia attivato. Torniamo verso l'alto fino a raggiungere il voltaggio della batteria, quindi lo attiviamo. Il voltaggio della batteria è fondamentale per sapere quanta carica ha ancora la nostra LiPo ed evitare quindi di trovarci con la batteria scarica durante il volo. Scendiamo verso il basso e abbiamo il sensore della corrente. Il sensore della corrente ci indica il consumo degli Ampere in quel determinato momento. È un'opzione utile ma non è fondamentale per i droni racer o acrobatici. Infine clicchiamo Save e Reboot. Adesso che abbiamo settato la telemetria nel Fret Controller, non ci rimane che settare la Taranis per leggere appunto questi dati. Accendiamo la Taranis. E colleghiamo il Fret Controller a una batteria LiPo. Adesso andiamo sul menu e dobbiamo andare nella pagina 11, quella relativa alla telemetria. Una volta che siamo arrivati nella telemetria, scendiamo verso il basso fino a trovare Discover New Sensor. Quindi clicchiamo Enter. Dopo qualche secondo possiamo andare a Stop. Adesso ha trovato tutta una serie di sensori e quello che ci interessa a noi è il VFAS che indica il voltaggio della batteria. Come abbiamo detto è utile per sapere quanta carica ha ancora la nostra LiPo e non rimanere senza batteria durante il volo. Una volta trovati i sensori possiamo cliccare su Exit. Questo era il mio tutorial su come collegare il ricevitore FRSKY X4R al Fret Controller Omnibus F4V2. Se vi è piaciuto il video mettete mi piace e non dimenticate di iscrivervi al canale. Grazie a tutti.